Credo che l'RSU sia proprio un'opportunità per tutti. Alle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, il 15, 16, 17 e 18 novembre, vota per i candidati di funzione pubblica CGL. L'assistenza da tutti i punti di vista, dal punto di vista medico, dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista del personale, è effettivamente molto costosa, però è un diritto. Grazie per la visione!